Quali sono le principali indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che è stato sdoganato dalla conferenza Stato-Regioni nel mese di agosto, quindi pochissime settimane fa? Ne abbiamo parlato con un vero esperto, col professor Carlo Signorelli, che abbiamo incontrato qui a Cernobbio alla conferenza nazionale straordinaria di sanità pubblica. Professor Signorelli, quali sono le applicazioni del Piano Nazionale appunto appena sdoganato a livello ministeriale cui lei ha fortemente contribuito? Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025 è un piano che riprende i concetti generali del precedente, tiene in considerazione di tutto quello che è accaduto durante la pandemia, anche in termini di aumento dei luoghi dove effettuare le vaccinazioni e ha una particolarità che gli altri piani non avevano e cioè di poter aggiornare annualmente il calendario vaccinale. Questo dà una maggiore flessibilità a naturalmente le commissioni tecniche nazionali ma anche alle regioni per poter offrire ai propri cittadini i vaccini di provata efficacia quando ci sono le condizioni epidemiologiche che lo giustificano. Sente professore, approfittando della sua esperienza, io le dirò il nome di un vaccino e lei ci spiegherà appunto per chi è maggiormente indicato. Professore, ricominciamo dal vaccino per il Covid che naturalmente è quello un po' sulla bocca di tutti. A chi farlo quest'anno nel 2023? Il richiamo oggi è indicato in modo particolare per due categorie, quelle dei portatori di malattie croniche, situazioni di immunocompromissione e per gli anziani oltre i 60 anni. Il secondo vaccino estremamente attuale è quello per l'influenza. Chi dovrebbe farlo professore? Anche per l'influenza c'è la possibilità di interessare tutte le categorie, anche i bambini da 6.000 a 6 anni soprattutto se frequentano ambienti affollati, però le categorie principali a cui questo vaccino è raccomandato e che si è iniziato a fare da qualche giorno sono anche qui come per il Covid i portatori di malattie croniche, quindi i soggetti fragili e le persone anziane. Ecco, passiamo adesso a vaccini leggermente meno conosciuti al grande pubblico, però sicuramente importanti. Il vaccino pre-omococico, chi dovrebbe appunto vaccinarsi contro lo pre-omococco, professore? Le categorie sono per larga parte sovrapponibili, quindi noi abbiamo i soggetti fragili e gli anziani. Per quanto riguarda pneumococco c'è anche la vaccinazione nell'infanzia e naturalmente questa è raccomandata addirittura dal primo anno di vita a tutti, ma siccome gli adulti e anziani di oggi non hanno ricevuto quel vaccino ovviamente le categorie più a rischio, più esposte, che possono avere più danni alla salute da questa malattia devono essere quelle maggiormente tutelate. Poi c'è un vaccino sicuramente meno noto al grande pubblico, però importante, di cui si è parlato molto qui a Cernobbio è quello contro il virus respiratorio sinciziale. Perché è importante questo vaccino? Chi dovrà farlo? Quando sarà disponibile? Quindi presumibilmente il prossimo anno. Vaccino nuovo, ancora in fase di avanzata sperimentazione. Peraltro esiste anche la possibilità di proteggere alcune categorie come i bambini con terapia preventiva a base di articorpi monoclonali, per cui io credo che quando abbiamo il quadro complessivo dei prodotti, quindi dei farmaci o dei vaccini autorizzati, dovremo fare un'attenta analisi tecnica di quali sono i costi, di quelli che sono i benefici per poter proporre su larga scala la popolazione la protezione migliore.